Dottora Ringhieri, le volevo fare una domanda che esce un po' dalle tante che sono state fatte qui. Farmaci orfani, ma è ancora giusto e producente o non è controproducente chiamarli così? Perché c'è chi dice usciamo fuori dalla terminologia malattierare perché è controproducente ai fini della propaganda e della comunicazione di queste malattie. Anche i farmaci orfani non dovrebbero cambiare nome? Sinceramente non credo sia un problema di nome. Nel senso che la Convenzione in qualche modo identifica in farmaci orfani e colleghe farmaci orfani alla percentuale di accadimento del problema. Quindi credo che per la parte industriale il problema non sia tanto di cambiare il nome, ma quello praticamente di continuare a lavorare sulla risposta al problema. Cioè io non credo che cambiando il titolo possa cambiare lo svolgimento. Quindi questo non lo vivo sinceramente come il primo problema, l'urgenza che abbiamo. Io volevo tornare su alcuni spunti che sono interessantissimi perché poi alla fine mi, come posso dire, mi ci ritrovo. Ecco, è stata una discussione molto interessante perché anche se il tema è stato visto da angoli diversi, poi alla fine sono problemi o aspetti che in qualche modo ognuno di noi ritrova nel proprio campo di gioco. Prima si è parlato di una, come posso dire, di una particolarità che richiede in qualche modo un'attività dedicata, regole del gioco dedicate. Prima è arrivato questo. E questo anche dalla prospettiva industriale è un tema che sentiamo. Voglio dire, sviluppare un farmaco con le regole del gioco normali, voglio dire, in un campo che è quello orfano, beh, crea indubbiamente dei problemi. Pensate a un braccio di controllo, pensate praticamente a dover fare un fase 3, che è la parte praticamente di allargamento e indubbiamente la parte più ampia. Beh, queste cose in teoria sono possibili, ma quando vai praticamente su soggetti indubbiamente che hanno una rarità, come quella che abbiamo richiamato, impongano tempi lunghissimi per l'industria, ma soprattutto un tempo che il paziente, e qui l'abbiamo sentito spesso, non può aspettare. Quindi anche questa è un'esigenza che noi sentiamo, cioè la necessità di riscrivere un po' le regole del gioco in un campo che ha regole diverse. Quindi applicare, come dire, to cure, le regole che abbiamo imparato, che sono praticamente, che funzionano in altri settori dove la percentuale di accadimento è diversa, spesso praticamente non ci permettono di lavorare bene. L'altra cosa, come posso dire, mi viene da dire che forse non abbiamo tracciato, lo dico perché facendo anche il mestiere che faccio, mi ritrovo ogni giorno praticamente a guardare, come posso dire, alcuni accadimenti, in Italia o all'estero, perché poi alla fine, come dicevamo prima, l'Italia è parte di un sistema, non tutto quello che è fuori dall'Italia funziona, voglio dire. Quindi è un problema che ritroviamo, qui siamo in Italia, quindi parlo di questo. Anche tutto il sistema burocratico che sta dietro praticamente alla ricerca, oggi in alcuni casi veramente non funziona, è parte del problema. Penso ai comitati etici, penso praticamente all'autorizzazione dei contrattualisti, mi sono trovato in situazioni su malattie rare, quindi con un bisogno di salute importante, in una fase di sviluppo, a ritardare mesi per una messa a punto di un contratto fra l'università e l'ospedale dello stesso praticamente centro, che sono delle cose che veramente vanno al di là del, come posso dire, non lo ritengo possibile, non lo ritengo etico, e magari è corretto, perché poi ognuno lo guarda dal suo punto di vista e quindi questi allineamenti, quando vai da uno, ma deve essere allineato, ma in mezzo c'è il paziente, quindi non si riesce ancora, come posso dire, a dare centralità al paziente superando alcuni elementi che sono dal mio punto di vista un po' vecchi. E quindi dobbiamo essere capaci di sollevarci, continuando a lavorare insieme e cercare di portare veramente, come posso dire, un'ondata nuova. Dobbiamo essere capaci di dare gambe un po' a queste cose, cioè qui rappresentiamo i diversi portatori di interesse, siamo tutti profondamente allineati sui principi, anche se guardiamo la cosa con competenze diverse, ma l'interesse comune è portare una soluzione sul paziente e non riusciamo spesso per il problema di burocrazia a dargli gambe. Dobbiamo non mollare, io credo nel Paese, sono italiano, e credo che ce la possiamo fare, però indubbiamente a questo tavolo servivano anche le istituzioni, secondo me, per poter completare praticamente un po' il giro. Sì, ci avevamo pensato anche noi alle istituzioni, purtroppo... Purtroppo il problema è che... L'esercizio era complicato, sì. Va bene, però erano... Purtroppo lui non c'è, non possiamo dargli la risposta, perché comunque, anzi, nell'ambito di tutti i ministri, fra tutti i ministri, è quello che più ha pensato alle malattie rare. Poi, chiaro, lo scoglie sempre lo stesso, l'economia. Sì, tra l'altro che ha chiesto ancora... Sì, sì, ha chiesto ancora, è tornato a chiedere, poi ci sono domande molto specifiche, ci sono prospettive per l'asma, ci sono prospettive sulle staminali per la sordità, ecco, qui purtroppo non possiamo rispondere, perché è un ambito troppo specifico, però a questo sì. L'aconico a questo paziente, come campano, voglio rispondergli, perché domani abbiamo la conferenza pubblica, in cui ci saranno anche i decisori politici, alla pediatria, al policlinico, lo invito, come rappresentante delle associazioni, lo invito a venire e rappresenteremo questo problema delle immunoglobuline e dei costi, evidentemente, che hanno le aziende, perché qua il problema è questo. Le aziende dicono sempre che hanno dei costi alti e spesso bloccano, diciamo, la somministrazione di queste immunoglobuline quando non ce n'è, secondo loro, la necessità, solo in casi di emergenza. Questo sia nei miastenici, sia nei pazienti che hanno le manifestazioni dell'IP, dell'immunodeficienza, eccetera. Questi problemi sono problemi che vanno decisi sui tavoli tecnici, praticamente, dove ci sono i rappresentanti istituzionali. Quindi noi domani saremo lì e cercheremo di portare questa questione, questo per dare una parola di speranza al malato raro della Campania. A proposito della SMA, sì, grandi speranze, nel senso che ci sono dei farmaci attualmente in sperimentazione e c'è qualcuno che sta provando con degli approcci di tipo molecolare. Quindi, voglio dire, c'è qualcosa che si sta muovendo e quindi credo che su questa condizione possiamo essere abbastanza ottimisti in un arco dei prossimi anni non molto lontani. L'altro riguardava la sorrità. Ci sono anche qui, essenzialmente, lavorando per ora su modelli animali, e dei tentativi di correggere a livello molecolare il difetto all'interno proprio dell'orecchio. Naturalmente, fortunatamente, il problema della sordità, oggi già con sistemi, diciamo, di alta natura, fortunatamente qualcosa si può fare. Il vero problema della sordità sarebbe quello che, se si abituassero tutte le neotologie a fare i potenziali evocati uditivi al bambino, si eviterebbe che nascessero dei sordomuti, perché una diagnosi precoce fatta le prime settimane, i primissimi mesi di vita, permette certamente di non dare incontro a quei problemi che avranno incontro i bambini che vengono diagnosticati all'anno o dopo l'anno. Però, voi sapete, dagli impianti protesici a una serie di trattamenti oggi con microchip che vengono messi nell'orecchio, in cui si può già fare corto. Certo, correggere l'effetto di tipo molecolare è una prospettiva che qualcuno sta tentando di fare. Quindi, anche in questo senso, ma qui credo che la ricerca sia molto più lunga rispetto ad altre ricerche che vengono fatte nell'ambito del materiale. Allora, grazie. Io direi che, visto che ci avviciniamo velocemente al momento della chiusura, farei un ultimo giro di opinioni, di chiusure, di buoni propositi, partendo dalla pediatria, dai pediatri che vengono indicati da tutti quelli che ci hanno seguito come uno dei nodi cruciali. Cioè, la gente, abbiamo visto, rispone molte aspettative nel vostro aiuto. Aiuto che va al di là, appunto, come abbiamo detto, della terapia. E credo che la società italiana, attraverso il vostro gruppo speciale, chiamiamolo così, si sia impegnando in questo senso. Una task force all'interno della pediatria. No, io raccolgo assolutamente questa sollecitazione e posso dire assolutamente che, anche a livello proprio di vertici della pediatria italiana, c'è un'assoluta consapevolezza dell'importanza di questi bambini e di queste famiglie. Perché abbiamo solo sfiorato il problema, ma il problema è più ampio, coinvolge l'intera famiglia, coinvolge i fratelli di questi bambini e quindi l'attenzione deve essere rivolta all'intero nucleo familiare. L'American Academy of Pediatrics ancora parla di un'assistenza che deve essere family centered e dove, se la famiglia è al centro, dobbiamo trovare a livello ampio sostegno per l'intera famiglia che effettivamente può fare la differenza se sostenuta. E qui il discorso si allargherebbe a esempi di necessità di sollievo, per esempio, che hanno state sollecitate all'inizio. Ma per tornare all'aspetto strettamente pediatrico, l'impegno è assolutamente forte, soprattutto in ambito formativo e, ripeto, soprattutto in ambito dell'insegnare alle persone le cose che devono sapere. Il pediatra non specialista deve avere l'occhio lungo e generare il sospetto, deve accompagnare la famiglia nell'iter diagnostico, a volte lungo, a volte infruttuoso, o che dura a volte anche negli anni, anche quando i percorsi sono corretti, e deve sapere assistere il bambino per quelle che sono le sue esigenze fondamentali, trasversali. Questo può essere imparato, deve entrare nella cultura dei pediatri italiani. Come si diceva, la nostra piccola società è un po' una task force che sta spingendo perché questo diventi sempre più una cultura allargata nell'ambito della pediatria italiana. E devo dire, tutte le volte che andiamo in giro a fare corsi, però troviamo grosso interesse, grossa capacità di recezione, proprio perché il vero punto è le malattie, appunto uno degli slogan delle giornate delle malattie rare è rari ma tanti. Allora, nell'ambito della pediatria consideriamo l'insieme dei malattie rari, dei bambini con malattie rare, e allora è un problema epidemiologico estremamente importante, molto più di tante altre malattie, anche banali, che a volte attraggono fin troppo attenzione. Grazie, Ringhieri. Invece l'industria, che compiti si può perseguire? E soprattutto l'industria ha capito definitivamente che il futuro sono i farmaci innovativi, sono questi grossi farmaci che deve abbandonare la strada dei farmaci fotocopia, le copie, quelli che di innovativo hanno ben poco? L'industria sostanzialmente, come dicevo all'inizio, si prende la responsabilità, si è presa in carico la responsabilità di essere parte della squadra. Vogliamo essere considerati come tali, non solo per l'aspetto della terapia e quindi dello sviluppo dei nuovi farmaci che fa parte del nostro mestiere e poi torno sulla domanda, ma anche perché insieme agli altri componenti della squadra abbiamo contribuito, credo, con soddisfazione, a fare un pezzo di strada. Ne parlava prima il Presidente che sull'area della formazione e dell'addestramento di due degli attori principali nell'intercettazione per la malattia, quindi pediatri e medici in medicina generale, conoscere per l'assistere è stato sicuramente un progetto importante. Per noi è stato un momento, una scelta prima di tutto, che abbiamo fatto in modo consapevole, sentendo una responsabilità e devo dire anche la soddisfazione dei risultati, perché poi abbiamo lavorato su questo insieme alle associazioni, portando a casa, dal mio punto di vista, secondo me alcuni pezzi. Quindi siamo parte della squadra, lo siamo stati fino ad oggi, vogliamo essere considerati come tali, perché per noi, sotto questo punto di vista, la responsabilità del paziente, con il contributo e la prospettiva nostra, la sentiamo. Sul tema della ricerca, l'industria sa, lo dicevo prima benissimo, che, come posso dire, il sistema oggi è affetto da un problema, questo non solo in Italia, ma nel mondo, che è la sostenibilità. Oggi il sistema non è più capace di accogliere, come posso dire, prodotti che non rispondono a alcuni criteri, che sono quelli di soluzione dei problemi veri. E quindi, vuol dire, non è una scelta da parte dell'industria decidere di muoversi sull'innovazione vera. Ormai è, come posso dire, una rotta obbligata. Il sistema mondo deve misurare con grandissima attenzione l'innovazione e deve accogliere praticamente l'innovazione solo quando praticamente è ritenuta con tutti i crismi tale. Quindi, vuol dire, non abbiamo scampo. Noi possiamo sopravvivere solo se siamo capaci di dare un valore vero alla nostra ricerca. E questa è la sfida che abbiamo accettato, quella che abbiamo portato avanti fino ad oggi e siamo convinti che questa sia l'unica traiettoria che possiamo praticamente perseguire. E' ovvio che il mondo come dire, così misurato intubbiamente come posso dire imporrà delle scelte quindi sopravviverà chi riuscirà praticamente a garantire questo vantaggio competitivo e che non ce la farà o la sensazione che non avrà molto più spazio. Grazie. Qui saluto le famiglie con Cridusha una malattia che conosco bene e cui sono tra virgolette affezionata perché ho seguito tutte le loro storie. Qui c'è una domanda specifica purtroppo non abbiamo altro tempo per approfondirla chiede questa signora ne è a livello nazionale o in ogni regione se può essere inserito il Cridusha ma non credo che sia fra le malattie. Comunque comunque si è inserita come c'è un codice specifico sì allora sì signora cioè se la sua domanda era questa è inserita nell'EA a livello nazionale o in ogni regione no? Quindi è nell'EA invece velocemente perché siamo veramente dobbiamo chiudere c'è chi deve prendere il treno allora professor Dara Piccola prendo spunto da una domanda di una signora che dice ma è possibile che io quando vado dal medico dallo specialista a cui vengo indirizzata da un centro di riferimento devo spiegare al dermatologo all'oculista il problema che ha mio figlio? Il problema è di tipo generale le malattie sono rare perché sono meno conosciute dai medici e questo spiega i ritardi nella diagnosi e tutto quello che consegue io credo che per superare questi tipi di problema noi dobbiamo avere anche in Italia una visione più europea delle malattie rare e avere una visione più europea significa seguire delle indicazioni molto precise che sono state date per classificare quelli che sono i centri che devono prendersi in carico i pazienti poi con l'ingegno italiano sapremo curare bene questo collegamento col territorio voglio richiamarmi al medico di famiglia al quale nessuno di noi chiede che sia così bravo da fare la diagnosi ma deve essere così bravo da sospettare che in presenza di un qualche cosa che merita un'attenzione verso un centro di riferimento credo che con piccole ricette la telemedicina che è stata ricordata prima si può risparmiare e si può far meglio e io sono ritorno dal punto da cui ero partito sono sostanzialmente un ottimista credo che il messaggio bipartisan che daremo al prossimo governo è quello di prendersi al cuore un tema che interessa tutta la popolazione italiana e interessa ormai milioni di famiglie perché dietro i pazienti ci sono tutti i loro familiari e a cascata quindi un provvedimento di buon senso e di solidarietà sociale farebbe sicuramente una caduta fondamentale per un affetto importantissimo della popolazione grazie Mazzella la prego un breve saluto e poi ricordi il sito dove trovarvi per tutti quelli a cui non abbiamo potuto rispondere perché il tempo è finito una speranza è che se le malattie rare costituiscono il 10% di tutte le patologie che anche venga dedicato adeguate risorse per il 10% del fondo sanitario nazionale a questo punto e poi un proposito passare dalla logica del divisionismo dalla logica della competizione che è un retaggio dell'aziendalizzazione degli anni 90 alla logica della cooperazione e della condivisione il sito a cui potete scrivere per mandare delle email ma soprattutto anche per coloro che hanno malattie rare non ancora riconosciute e diritti non regali per i malati rari in Campania è il Coremar Campania chiocciolagmail.com allora grazie grazie a tutti e grazie a tutti quelli che si sono collegati con noi speriamo di ripetere presto perché questi scambi di opinioni io trovo siano interessanti per tutti grazie e continuate a seguirci sul nostro portale grazie a tutti